spallacci germania est in robustissima cordura di nylon colore grigio agganci per cinturone in metallo alluminio metallo di alluminio anelli inferiori regolabili questo spallaccio ha doppio attacco anteriore e un passante qui si può far passare il cinturone di questa asola qui regolandola alla misura adeguata sul retro invece troviamo un aggancio metallico regolabile tramite fettuccia e un anello sulla sua parte terminale doppio anello frontale spallaccio semplice spartano ma di provata efficace leggero e indiscutibile